La Filovia e il suo destino sembrano di nuovo trovare un ostacolo alla realizzazione. Arriva la notizia che la società che doveva fornire i mezzi di trasporto avvenieristici e rispettosi dell'ambiente si è fallita ed ora si apre un nuovo interrogativo. Cosa succederà a Pescara in tutti quei tratti già predisposti per il transito? Se non c'è un altro fornitore dei mezzi non c'è più il progetto. Questo mi sembra evidente ed è proprio per questo che invito alla cautela e anche l'intervento del Presidente della Regione va letto in questa direzione. Il Presidente della Regione, spiega Del Vecchio, si sta impegnando a vagliare le diverse opportunità. Ancora non è stato deciso il futuro dell'opera che tanto ha diviso i cittadini pescaresi. Finora c'è stata una spesa conseguita per modificare la strada parco con cavi, fili e strutture. Dunque l'interrogativo è cosa succederebbe se non si trovassero altri mezzi adeguati per il trasporto? Non credo si tratti di un sì definitivo. Credo invece che si tratti di un buon principio di cautela per quanto riguarda quella che è la responsabilità della Regione Abruzzo rispetto a un progetto di cui è direttamente responsabile. E quindi sicuramente ha voluto mantenere un principio di cautela poiché ci troviamo di fronte a un appalto che potrebbe, e quindi c'è sempre il condizionale di mezzo, andare verso più soluzioni da quello che è la rescissione contrattuale o da quella che potrebbe essere anche una prosecuzione perché allo Stato non ci sono dati che fanno propendere per un verso o per l'altro. Il nostro invece è un auspicio, avendo in più volte sostenuto, segnalato, evidenziato come quel progetto non sia rispondente alle esigenze della città di Pescara e non solo, diciamo, non rispondente alle esigenze dell'area metropolitana che dovrebbe servire. Se è fallita la PTS, unica società al mondo a costruire questo mezzo, una ragione pur ci sarà.